Sì no sì Volevo chiedere delle bube stanno a scuola stanno stanno a scuola e bube ok Che cazzo sei? Ma chi cazzo è questo? Ma chi è? Ehi chi sei? Ehi chi sei? Buongiorno Chi sei? Ehi Ehi chi sei? Mi senti? Ehi Vieni con me Vieni con me Proteggimi Diverse roccaforti identificate Le loro posizioni sono sulla mappa tattica Ok Devo comprare le armi bro vieni vieni devo comprare le armi Grazie a capa Pablo per diventire meci Vuole averci due anni Geredone grazie per il fondo raga Ma non posso mandare la richiesta Non posso Ma prendi tu prendi tu qua Ricarico? Ok Che cazzo è? Ma chi è questo qua? Chi è? Voglio sapere chi è Che cazzo Ok Buongiorno Night Buongiorno Lasciate le prossimità attivasi Ehi Mi senti? Se mi senti salta Se mi senti salta No Non mi senti? No Ok Ok senti questa Andiamo su Ehi attento che è pericoloso C'è uno cazzo Ti giuro c'è C'è uno sotto C'era uno C'era uno Frenze Frenze No 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 Mi senti salta Allora No 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 Siamo sul caffino No 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 Non mi senti Non mi senti No 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 Siamo sul caffino Ok Siamo aspettando Ghibi Siamo timi Siamo timi Siamo aspettando Siamo insieme Siamo insieme Abbiamo 3 ora, abbiamo 3 Ok, abbiamo 4, abbiamo 4, un altro uomo, vieni, vieni Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Poi, hai self-provide? Ok, ok, ok Bene, perfetto, perfetto Ok, dobbiamo acquistare il self-provide, bisogna tutto Perché se si usano, siamo bene Ok Quindi, come siete voi? Siamo bene, siamo bene Ok Cosa devo acquistare, cosa devo acquistare? Ehm, self-presso, posso darmi il self-presso? O non hai? Grazie Pablo per i 23 mesi con la base di danni Ok, ok Ok, ok, ho chiesto un V, eh, per voi Bene, bene Grazie, Ergen per i 6 mesi suplemani Makt, bello, ragazzi, vieni In singolo non si può giunare Ok, 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 qui Questo building? Let's go Oh! Qui! Vado qui Ho bombato! Che succede? Che succede? Eh, no, no Deve usato, ma è facile Oh, ok L'altro non parla, fuori non c'è il microfono Ok, ok, ok Ok, siamo molto messi, Ben Siamo messi, Ben Un flio, flio! Eh Eh, hello Un flio, un flio Un flio, un flio Un flio Un flio Un flio Ok, ok, ok Ok, ok, stiamo bene Perfetto, stiamo qui Penso che ho un UAV Ah, tu vuoi comprare? Tu vuoi comprare? No, è troppo rischio, stai qui Ah, hai uno, ok Pronti? Perfetto Un flio Un flio Un flio Un flio Un flio Ok, 4, 4, 4 Oh, oh, mi scocano Mi scocano Sendere 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 Sono sotto Un flio 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 Ragazzi Cazzo di game Bellissimo Troppo bello Ma che che